ciao amici mese di febbraio mesi della disintossicazione del nostro corpo ma disintossicazione sul serio ok perché veramente ho sentito tante cose ma io sono una persona molto pragmatica e io voglio avere le soluzioni quelli proprio reali allora una delle mie tecniche preferite in assoluto sono i prodotti a raggio lontano che si chiamano fir ok infrarossi che aiutano a disintossicare il corpo in modo incredibile allora io ho comprato una sauna si una sauna ad infrarossi l'ho trovato su amazon te lo dico perché io non li vendo ma lo uso ok e poi ti dico un'altra tecnica che usa infrarossi sono miei bigood quelle che sto indossando perché questo dermofibra crea fir infrarossi a raggio lontano grazie cristalli organici che stanno nel filato ok così io ho due modi per aiutarvi ad avere i fir nella vostra vita per disintossicare il vostro corpo allora come funziona queste fir ad aiutarci la sauna ci aiuta perché io ci rimango per 20 minuti altamente tollerabile perché alla differenza di una sauna svedese la sauna degli infrarossi non riscalda l'aria penetra direttamente la cute ok le infrarossi raggio lontano si chiamano la bio infrarosso o quello che è la raggio delle vite che noi assorbiamo dalla banda dal sole ok ci aiuta con la fotosintesi ci aiuta con tutte le processi vitali del nostro corpo e ci aiuta a tenere veramente in salute ma ti spiego che cosa fa nel tuo corpo penetra a diversi centimetri di profondità e interagisce con l'acqua del tuo corpo senti questo avete presente che cos'è la nuvola la nuvola è un'agglomerazione di molecole d'acqua giusto ok queste accade nel vostro corpo e si conosce come ritenzione idrica la donna ritenzione idrica è sinonima come se tu sei una donna hai ritenzione idrica se volete vedere se avete ritenzione idrica basta provare di sfilare un anello se l'anello non viene via con tanta facilità vuol dire molto probabilmente c'è un problema di accumulo di nuvole d'acqua nel vostro corpo si chiama water clusters water clusters vuol dire una macromolecola che viaggia tra 12 e 14 molecole dell'acqua insieme e fanno fatica di essere riassorbita dal microcircolo da una parte e dall'altra parte fanno fatica a penetrare proprio le membrane delle tue cellule si chiama osmosi cellulare ed è fondamentale l'osmosi cellulare perché è quella che rende diciamo le parete delle tue cellule più salutare da un'altra parte ed è quello che porta i nutrimenti da una parte e porta via i vitriti ascoltate qua se tu metti questo tessuto dopo circa 90 minuti comincerai a scappare a fare pipì tante plin plin perché aiuta queste maccole molecole d'acqua di partire o di segregare la adesione molecolare si aiuta a sganciarci da 12-14 molecole a diventare 3-5 molecole d'acqua che da un gocciolone d'acqua diventano goccelline a questo punto diventa molto più facile per il nostro acqua penetrare le cellule porti portare via le tossine essere riassorbito dal nostro circolo microcircolo le nostre via limpattiche per drenare 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 ok lo posso fare tutti i giorni con nostro bigood o altrimenti posso avere la mia sauna perché quel giorno che veramente vogliono desintossicarmi sul serio perché sentite questo questa meravigliosa sauna svedese quella che fa calore sauna infrarossi ok l'hanno misurato le tossine presente nel sudore dell'individuo che sono stata nella sauna svedese e la sauna infrarossi quella della sauna svedese aveva soltanto 2 per cento di tossine ti ricordate che vi ho parlato del body burden tutto quel tossine che abbiamo congelato nel nostro corpo solo 2 per cento del sudore che è uscito dalla sauna svedese era di tossine e invece indovinate quanto c'era nella sauna infrarossi ragazzi 17 per cento del sudore della sauna infrarossi era intrinse di tossine ecco quando io parlo di desintossicarci voglio darvi i mezzi per farlo i mezzi veri perché le tossine nel nostro corpo comunque affaticano il nostro corpo affaticano il nostro cervello affaticano il nostro fegato il nostro reni i nostri polmoni insomma tutti gli organi interni così questo settembre febbraio scusami questo febbraio vorrei aiutarvi a disintossicarsi su serio e parte di questo percorso potrebbe essere infrarossi ragazzi lontani con due metodi semplicissimi da utilizzare be good che le indossi e loro si accendono per te o altrimenti potrete ordinare una sauna ad infrarossi su internet ok così vi aspetto la prossima consiglio insieme sperando di aiutarvi giorno dopo giorno qui su now non sentirti soltanto meglio con i muscoli ma anche con tutta la salute un bacio dalla gil ti aspetto domani con un altro consiglio ancora grazie a tutti 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 grazie a tutti